Come si chiama? Carlemonna Francesco Classe? 321 Benissimo Allora, cominciamo a rendere capo Lei, quando fu la guerra, come fu fatto? Io partivo nel 1941 Puglirione 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 Mi portava a Roma A Cicchignola C'era unico selma a Roma Cicchignola Contrata Cicchignola Roma Dopo il Roma Ci stiamo a pochi tempi E andrò in un altro reparto E nemmeno la Cipatavecchia Sempre vicino a Roma E stiamo a sedere Per difesa territoriale E Cipatavecchia Dopo ce la può bracciare Anche Cipatavecchia a bracciare Che vicinissimo Poi mi hanno portato in Sicilia A Palermo E a Palermo siamo stati Per difesa di artiglieria Contraere Contra gli aerei A Palermo Di Palermo passavamo poi a Messina Trappi da Pomo Sempre per difesa Perché eravamo in guerra Poi sbarcava i maragani E ne pegliarono i prigionieri A Catania I Catania ne portarono A Campi di Concentriamento A Siracusa Mentre si andavano avanti 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 E non andavano altro A Casa Colossa passare Non andavano altro Chi se ne avevano fatto tutto Mi dicisci una cosa Ma a Sir Rodda Quando c'erano i bombardamenti Sì signora Come era? A Catania Bombardamenti Un altro giorno A Catania A Messina Tra Reggio Calabria E Messina Era una spiglieria Quanto era? Era una spiglieria Quanto era? C'era spiglieria E apparecchi Che erano Andavano da te E per l'aria E ne avevano sempre a terra E eravamo Capivano? Niente Poi c'era C'era il refugio Ma stavamo a Palermo Perché eravamo Di appare Quello C'era una certa volta Avevamo venire anche Nel refugio Pronto per la birra E i capannuna Avevamo tutto coperto Le rite Pianto Se si piace Se si scopra Per non si vede La cannuna E eravamo Tutto coperto Le cannuna Erano Le cannuna Avevamo Perché eravamo Un'artiglia Contraere E eravamo Corpo d'armata E quando Chi scriveva A casa? Sì Ci scrivevamo Per 5 mesi Siamo senza Recivere Porta Andiamo Ci scrivevamo Ma posta Non la riceviamo 5 mesi Ma chi sto quando? 43 Quando ci furono L'americano? Quando ci fu L'americano E poi Facciamo La vita Io eravamo Per Depesare L'americano Quando ci fu Al carri Ma le gane Posta Non la fa Per 5 mesi Per 5 mesi Per 5 mesi